Il reattore principale Siamo sopra Tatooine Sarà più sicuro con un vecchio amico Tatooine, allora dobbiamo andare ai gusci di salvataggio No, li scansioneranno in cerca di forme di vita Dobbiamo usare un don Oh santo cielo Qui è il comandante che vi parla Nel caso vi foste chiesti da dove provenivano quei suoni Stiamo attraversando una turbolenza provocata da un'invasione Si prega di mantenere la calma Via, via, via! Sono qui! Fermatemi! Ciao! 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 Ambasciatore Cominciamo le negoziazioni Sembra essere bloccato Sono ancora il vostro capitano. L'impero ha portato la nave. Non vi verrà più richiesto di mantenere la calma. Arrivano sempre più assaltatori. È per questo che dobbiamo portare questi piani sul Tatooine al più presto. Dov'è quel drone? Ok, sembra sicuro adesso. Capitano, non ripetetelo più, per favore. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Servono rinforzi! Rinforzo! Mi servono rinforzi! Mia signora, la strada è blocciata. Dobbiamo trovare il modo di procedere. E allora facciamo buon uso dei piani dell'impero. Con un altro po' di acqua potrei spegnere quelle cose. Un altro po' di acqua potrei spegnere quelle cose. Dobbiamo scollegare l'alimentazione di questa porta. Dove sono le unità di energia? Presto! È di nuovo il vostro vecchio capitano che vi passa. Date un caloroso benvenuto all'impero, arrendendovi pacificamente e cedendo i piani. Ricordi la password? 318. 318? Io sono 764. Oh, scherzo. Dov'è 318? Credevo fossi tu 318. La vostra nave è stata agganciata dall'impero, altezza. Ne siamo ben coscienti, ammiraglio. Dobbiamo tirare le leve di emergenza per questa porta. Trezze, entra un po' di acqua. Arrivano! Attenzione laggiungo! Perde la posizione della forza di Graciforri e arrivano a fronte. Da quella parte! Attenzione! Attenzione laggiungo! Porta a camminare! Uno se ne andrà da questa nonna. Non così in fretta. Ecco la mia unità R2. È il momento di spedire questi piani su Tatooine. R2 e D2, dove sei? I piani della morte nera non sono nel computer principale. Che cosa è qua? Come il piano? Missione segreta? Quali piani? Ma di che cosa parli? Oh, santo cielo! È un pane caos! Aspetta un momento, dove vai? Eh, cosa sono quelli? Sono solo due droidi. Ti sei spaventato, amico? No, certo che no. Non c'è niente di spaventoso in un ammasso assenziente di metallo e fini. Calma, calma! Calma, calma! 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 Calma, calma! l'usci di sottopatto Sì, non è il guscio che state cercando. Sì, non è vero. Ehi, non puoi entrare lì, è vietato. Ti disattiveranno di sicuro. Sì, non è vero. Non pensa, i danni non sembrano così gravi da qua fuori. Non so di cosa parli. Sono un membro del senato imperiale in missione diplomatica ad Alderaan. Voi siete una traditrice. Portatela via! Avrà nascosto i piani nel guscio di salvataggio. Un distaccamento va da recuperarli. Signore? Grazie. 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 Grazie.